Ciao a tutti, sono Roberto Stocchi e volevo invitarvi a restare a casa. Aiutiamo il Sistema Sanitario Nazionale, non andiamo a gravare con lo stupido girare senza un serio e valido motivo per la città, rischiando di farci male, ammalarci, eccetera. La situazione è grave, ma ce la possiamo fare se ci diamo una mano tutti. Restiamo a casa, ci guardiamo una bella serie, leggiamo un bel libro, puliamo lo studio, io l'ho fatto ieri, poi la cucina, l'altro ieri, oggi faccio il terrazzo, sarà stupendo mettere di nuovo tutto in disordine per rifarlo un'altra volta. Forza ragazzi che ce la facciamo, prima o poi ce la facciamo e sicuramente sarà presto. Un bacio a tutti.